il martino non commenta cosa dico? dico che il mio è un bullo, vuole andare dentro a notare adesso e c'è anche il... come si chiama? il centrale come si chiama? come si chiama? come si chiama? non si chiama? il dico! Ecco l'unico barcone che riesce a salire sopra il livello del ponte Milo stai filmando le lucine wow che bello Grazie 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 Grazie